La tematica relativa al Food Trust ha portato le aziende del settore a certificarsi con sistemi di HCCP per poter comunicare al consumatore in maniera trasparente che esistono procedure di tracciabilità che garantiscono la sicurezza dei propri prodotti. Ma proprio questa tracciabilità è di difficile gestione, soprattutto a ritroso, cioè quando si verificano delle problematiche dal lato del consumatore, un percorso che impiega un effort non indifferente. E se la blockchain fosse impiegata in questa direzione, potrebbe essere la soluzione per l'annoso problema della tracciabilità dei prodotti alimentari nel settore food? Lo abbiamo chiesto a Marco Crotta, blockchain specialist e advisor, fondatore di Blockchain Cafè. Io sono Tommaso Allegra e questo è Fintech24. Cari ragazzi, siamo qui di nuovo a parlare di blockchain, questa volta però associato al tema del Food Trust, della tracciabilità dei prodotti. Con noi, a approfondire la tematica, c'è il grandissimo Marco Crotta. Ciao Marco e benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Allora, cominciamo subito. Parliamo un po' del perché e di come è iniziata la tracciabilità degli alimenti nel settore food. Parte, come spesso accade, da una necessità, da un'opportunità e poi vabbè, ci sono sempre di mezzo i soldi. Allora, in particolare per noi in Italia, dove il cibo e la qualità del cibo sono giustamente un motivo di orgoglio, abbiamo il problema che molti di questi nostri cibi particolari, ma anche i vini, i prodotti DOP, DOC, DOCG e via dicendo, sono o contraffatti o imitati o anche addirittura semplicemente scimmiottati, il cosiddetto Italian Sounding. Cioè ci sono prodotti in giro per il mondo che hanno una bella confezione con un nome un po' così italianeggiante, ci mettono una bandierina tricolore e quindi quello sembra un prodotto italiano made in Italy, viene venduto al costo di un made in Italy, facendosi quindi belli della nostra qualità, della nostra tradizione, però l'italiano non hanno assolutamente niente. Ho visto un paio di statistiche, di numeri su questo fenomeno e c'era da impazzire perché si parla di cifre che, a seconda delle fonti dove ho trovato dati su questo elemento, c'era che mi diceva 65 miliardi l'anno, c'era che mi diceva addirittura 100. Quindi, voglio dire, è un settore dove vale la pena cominciare a metterci un po' il naso. Come funziona oggi la tracciabilità degli alimenti? Allora, non sono un esperto di questo settore, però so per certo che ci sono comunque norme già prestabilite per fare tutto quello che riguarda appunto la tracciabilità, ovvero dare delle opportune garanzie al consumatore finale rispetto alla qualità, in particolare per quello che riguarda la salute, degli alimenti che consuma. Tuttavia, c'è un problema, cioè queste norme e questa tracciabilità sono spesso intervenute in ritardo o hanno comunque fatto sì che ci fosse la possibilità di creare delle situazioni decisamente sconvenienti, in particolare per il consumatore. Quindi, partendo dai casi più noti, quelli un po' più storici, quindi della mucca pazza. La mucca pazza fondamentalmente era un problema dovuto e legato al fatto che venivano somministrati agli animali dell'allevamento del cibo che poi alla fine gli dava degli scompensi neurologici e via dicendo, oppure le famose mozzarella blu, piuttosto che diverse malattie che si hanno soprattutto sui suini e via dicendo, derivano tutte quanti da una gestione non corretta della filiera alimentare. Quindi, purtroppo, le norme ci sono, ma la messa in pratica fino adesso non ci ha dato delle grandissime garanzie rispetto alla salute e comunque alla qualità del prodotto una volta che poi arrivava nelle nostre tavole. La cosa potrebbe cambiare con la blockchain per una serie di ragioni. La prima è che questi controlli possono essere fatti praticamente live. Cioè, quando un prodotto attraversa la sua filiera produttiva, quindi dal raccolto piuttosto che dall'allevamento fino a passare tutte le fasi intermedie, i dati vengono giustamente aggiunti man mano che questi prodotti attraversano la filiera. E la cosa, secondo me, più importante è che questi dati sono immediatamente aperti e pubblici. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che tutti possono seguire il prodotto durante la sua trasformazione prima ancora che questo prodotto si trovi sullo scaffale del supermercato. E infatti, secondo me, la cosa che sarà particolarmente importante nella tracciabilità del cibo fatta con la blockchain è il fatto che il dato è visibile contemporaneamente a i NAS, a FederConsumatori, a tutte le associazioni di categoria che vogliono controllare che i propri iscritti si comportino seguendo le giuste regole e soprattutto saranno visibili anche alla concorrenza, che è la prima, diciamo, parte che è interessatissima a capire se io, azienda, mi sto comportando bene o male perché sono i primi che hanno un totale interesse, eventualmente, a far emergere tutte quante le mie magagne. Certo, certo, molto chiaro. Quindi, pensi che, secondo te, come mai le aziende del settore alimentare hanno deciso di investire nella blockchain o decideranno di investire nella blockchain per questo settore? Allora, ci sono, secondo me, due aspetti particolarmente rilevanti. Allora, il primo è che la tracciabilità della filiera fatta, ovviamente, nel modo opportuno perché, allora, ci sono già stati degli esempi ma ci sarebbe molto da dire, molto da dare indagare effettivamente su quelle che sono le reali o presunte garanzie dei sistemi che sono proposti ora, che molto spesso sono le trovate di marketing. Ma, diciamo, un attracciamento della filiera fatto bene permette a un'azienda anche, ad esempio, di trovare dei dati relativi al proprio processo produttivo. Quindi potrebbe anche, innanzitutto, mettere in chiaro se ci sono dei problemi a livello di performance di qualche parte di questa catena. Quindi trovare delle inefficienze o comunque dei sistemi o delle parti in cui ci sono dei costi eccessivi non giustificati e andare a intervenire su quello. Quindi il primo beneficiario di una tracciabilità su una blockchain è l'azienda stessa che la adotta. Il secondo è anche lì uno scopo fondamentalmente di marketing e di trasparenza, se vogliamo. Cioè, io senza fare nomi ero a un convegno appunto dove si parlava di questo e mi è stata fatta la domanda come facciamo noi produttori di cibo a ristabilire la fiducia con il consumatore che in questi anni è venuto a incrinarsi per una serie di ragioni? E la mia risposta è stata perfetto. Eliminiamo il fattore fiducia. Cioè, l'unico modo che tu hai per, come dire, cercare di salvare un po' questa situazione non è quello di cercare di riconquistare una fiducia che magari ti sei perso per una serie di ragioni ma a un certo punto direi non ti devi più fidare di me. Tu puoi controllare tutto quello che sto facendo e come lo faccio. E l'unico modo serio per farlo secondo me in questo momento è appunto rappresentato dalla blockchain che però non deve essere utilizzata, come dire, con un sistema un po' troppo semplicistico di dire sostituiamo ai bitcoin o le criptomonete i beni di consumo e tracciamo quelli come se fossero dei bitcoin. Non funziona. Anzi, devo dire, ci sono stati tantissimi sistemi proposti che in realtà non funzionavano bene per fare questo sistema. Ci sono anche dei sistemi che invece stanno funzionando che hanno un approccio diverso, un approccio più vicino alla notarizzazione documentale dei documenti, dei vari passaggi e che permettono di fare una trasparenza sull'incrocio delle informazioni che vengono messe in blockchain. Quindi un esempio per tutti è avere un allevatore che dichiara di avere un tot numero di capi. incrociare l'informazione dei capi che ha con il numero di vaccini che ha acquistato per farli vaccinare e con il resoconto del veterinario messo in blockchain dal veterinario, quindi una seconda parte, non dallo stesso allevatore, che attesta che effettivamente quella stessa quantità di vicini è stata somministrata. incrociare poi quando questi vengono venduti con la bolla del trasportatore che è una terza parte, che non può essere incombuta anche lei necessariamente con l'allevatore e anche col veterinario. Ho trasportato esattamente questi capi. Quei capi poi alla fine dovranno arrivare un macello e il macellaio a sua volta dovrà dire di averne ricevuti quello stesso numero e via dicendo. Quindi sarà dall'incrocio dei dati messi insieme da diversi attori nella filiera, non un solo attore che garantisce dal seme al frutto e da lui tutte quante le informazioni e quindi c'è di fatto una sola persona con cui ci si interfaccia, ma interfacciandosi con i diversi attori all'interno della filiera che o sono tutti quanti in combutta fra di loro quindi sono tutti quanti conniventi a dire il falso oppure a un certo punto c'è qualcuno che dovrà essere non può mentire perché sarebbe l'unico che mente in una figlia di persone oneste che avrebbero dei danni dalla bugia che è stata detta. Il caso ad esempio dei capi è non ci può essere un macellaio che dice di aver acquistato 10 maiali e poi far uscire 30-40 prosciutti da quei 10 maiali cioè qualcosa che non torna. E quindi è questo il modo di andare a controllare e incrociare le informazioni. Poi ovviamente uno dichiara quello che vuole è ovvio che uno può anche dichiarare il falso il punto è che nel momento in cui dichiara il falso o mette in crisi chi lo ha preceduto nella filiera o quelli che andranno a seguire e poi comunque i numeri non torneranno e soprattutto perché questi dati sono pubblici e soprattutto perché appunto la concorrenza avrà interesse ad andare a cercare il pelo nell'uovo dovrà fare moltissima attenzione a non barare anche perché se poi bara non può più come dire nascondersi perché in blockchain i dati rimangono e non spariscono di conseguenza la sua bugia rimane scritta in blockchain per sempre a rovinargli la reputazione. Certo, certo. Quindi riassumiamo un momento le aziende adotteranno la blockchain per il settore del food quindi come benefici avranno una riduzione dei costi una maggiore fiducia da parte del consumatore perché ovviamente il concetto di Made in Italy il brand per così dire il market del Made in Italy alle volte sembra un po' tra virgolette compromesso avranno più controllo per quanto riguarda la loro produzione interna e per chi per esempio fa allevamento di capi di bestiame eccetera eccetera avranno un maggior controllo anche sui loro capi e sui loro allevamenti che si ripercuoterà alla fine attraverso tutti gli attori coinvolti nella filiera produttiva giusto? Esattamente Non mi sono perso niente Bene, bene questo è molto interessante Allora mi viene in mente di chiederti come funziona la blockchain in relazione alla tracciabilità degli alimenti cioè a livello magari un po' più tecnico come potrebbero le aziende interfacciarsi con questa nuova tecnologia? Allora serve innanzitutto il funzionamento è l'equivalente di quello che può essere fatto in maniera tecnicamente molto simile quando si usa la blockchain ad esempio come garante della data certa di un documento come elemento per andare a proteggere la proprietà intellettuale dimostrando che il tal documento esisteva in una tal data e che è stata messa da una persona che si può palesare si può identificare tramite la chiave privata che ha fatto quella transazione l'idea è quella quindi di utilizzare la blockchain come un deposito di documenti documenti che saranno necessariamente legati fra di loro a costruire diciamo la filiera cioè quindi partendo dai documenti che sono relativi alle prime fasi di quegli elementi di produzione e poi come dire questo documento è legato a quello che ha preceduto quello che lo segue e via dicendo in maniera da poter comunque fare diciamo surfare queste informazioni e questi documenti che sono depositati fino a seguire il prodotto dire si trova in questo momento su questo scaffale di questo negozio in questa città che è l'ultima informazione relativa al passaggio che fa il bene fino a diventare un prodotto e questo tra l'altro è anche un sistema fantastico per andare a frenare le contraffazioni perché un prodotto si può trovare in un posto solo quindi se io sono in un negozio a Milano e la blockchain mi dice che quel prodotto in teoria con quel QR code corrispondente deve trovarsi in realtà in Svizzera dico c'è qualcosa che non va quindi uno dei due sarà per forza falso c'è qualcosa che non torna quindi l'utilizzo è fondamentalmente quello di gestione documentale di documenti che fanno una forte presa diciamo di autocertificazione del processo da parte dell'azienda stessa che poi gli valgono di fatto la propria immagine quindi è un vincolo reputazionale molto forte e dal lato tecnico ci sono delle soluzioni ad esempio sono soluzioni che sono praticamente quasi dedicate a utilizzi di questo scopo e che quindi per chi è del settore diciamo non ci potranno essere i criptokittis sopra o comunque altri utilizzi diciamo non business non ludici o ludici o cose di questo genere che possono andare a causare magari dei rallentamenti sulla rete e via dicendo una di queste tecnologie una di questa blockchain è italiana e anche se poi alla fine ha fatto una fondazione svizzera per gestire tutto quanto il know-how di questa realtà e si chiama Quadrans che infatti prende il nome da una moneta romana quindi non Quadrance ma Quadrans con la S finale e sarà appunto una blockchain esclusivamente dedicata alla tracciabilità della filiera che è nata dalla tracciabilità della filiera del cibo però nulla vieta di utilizzarla come appunto starà succedendo per tutto quello che è il made in Italy quindi la moda ma anche le proprietà intellettuali prossimamente anche eventualmente tutto quello che riguarda il mondo pharma e via dicendo perché la tracciabilità della filiera alimentare forse è il caso più complesso che abbiamo anche perché i passaggi sono molti le specie di prodotte sono tantissime la quantità di dati è enorme e talvolta il livello tecnologico di molte aziende non è a livello di una come dire di una start up che lavora in blockchain quindi quello probabilmente è il caso più complesso da affrontare in tutti gli altri casi in tutte le altre filiere compresa quella meccanica l'automotive qualsiasi altra filiera è addirittura più facile farlo e probabilmente ci sono anche dei servizi che hanno dei valori numericamente più alti o economicamente più rilevanti quindi sinteticamente per una gestione documentale efficiente a livello di tracciabilità che può essere applicata poi nel settore food che può essere applicata anche nel settore metromeccanico automotive eccetera forse la tecnologia più o almeno il riscontro che l'utente può avere più sinteticamente dalla tecnologia è il QR code sì quello è l'elemento che trova sul prodotto e che dovrà andare a fare appunto gli permetterà di andare a fare il controllo anche qui ci sono diversi modi di farlo perché alla fine diciamo il QR code è un'etichettina che si mette su un prodotto e non la vieta di staccarla e metterlo su un altro nel momento in cui questa cosa è fatta male diciamo che l'obiettivo del QR code è permetterti di accedere a delle informazioni queste informazioni ovviamente dovranno essere complete e coerenti con quello che l'utente si trova sotto il naso in quel momento quindi deve essere il prodotto corretto che si trova nel posto corretto e via dicendo diciamo che la blockchain su questo punto di vista non è magica non ti può garantire che le informazioni immesse siano corrette lo scopo della blockchain e dell'utilizzo della blockchain in questa maniera è fornire tutte le informazioni in maniera assolutamente indipendente e libera così che tutte le parti che hanno intenzione o hanno la possibilità di controllare lo facciano ad esempio è vero che io il QR code lo posso fare la scansione ad esempio con l'app del supermercato stesso dove sto facendo la spesa ma nulla vieta che ci sia una siccome la blockchain è pubblica è aperta i QR code sempre quelli sono nulla vieta che io faccia la scansione con un'altra app magari quella di feder consumatori o di slow food non lo so che mi danno anche loro la loro versione di quello che leggono sulla blockchain e magari non so feder consumatori potrebbe dirmi attenzione guarda che il mangime degli animali che sono stati usati per fare il ripieno di questi tortellini è stato acquistato da un rivenditore che ci risulta essere stato anni fa coinvolto in uno scandalo o essere in provincia di Chernobyl magari il produttore stesso non lo sa ma è nelle migliori delle ripostesi o non lo vuole dire ma il dato è pubblico e quindi chiunque può andare poi andare a controllare e aggiungere dei pezzetti laddove eventualmente dovessero mancare è uno strumento estremamente meritocratico su questo punto di vista sembra anche un ottimo modo per qualificare i propri fornitori nella assolutamente nella realtà di cui faccio parte la qualifica dei fornitori è molto importante perché poi esistono anche delle responsabilità che uno può avere direttamente nei confronti del consumatore che può essere avversi sentito male per quel pacco di tortellini responsabilità che ad oggi non riesci a tracciare a pieno ma probabilmente con o almeno implementando sviluppando questa tecnologia riusciresti a non dico puntare il dito ma comunque ad avere un sistema che ti possa proteggere anche e quindi una qualifica efficiente dei fornitori assolutamente sì infatti questa stessa informazione nel momento in cui arriva all'utente finale probabilmente tardi ma nulla vieta che arrivi prima anche magari in fase di selezione del fornitore ad esempio all'azienda che dice da chi mi rivolgo per questo quindi anche su questo hai tu pensa quanto potrebbe essere il risparmio nell'andare a trovare il fornitore corretto questo qui ha un record track immacolato questo qui un po' meno da chi vado e vuol dire praticamente riuscire a costruire una filiera da zero piano piano ovviamente sarà un processo molto lungo laborioso serviranno probabilmente qualche anno prima di avere questo ma l'obiettivo è proprio quello ogni singola fase del processo ha le stesse possibilità di essere controllata verificata migliorata e quindi è un vantaggio enorme per tutti ma infatti su questo probabilmente la grossa differenza sarà tra chi utilizzerà questa tecnologia che secondo me avrà dei vantaggi enormi perché anche a livello reputazionale io sono talmente sicuro e talmente convinto della qualità e della bontà di quello che faccio che ho il coraggio di metterci la faccia per sempre su una blockchain e quella è una cosa e poi ci saranno gli altri che non lo fanno assolutamente e lì problemi eh un po' anticipato diciamo l'ultima domanda che avevo piacere di farti sperando che non sia l'ultima perché mi chiedevo quanto potrebbe volerci affinché ci sia un'adozione su larga scala nella nostra industria alimentare come nostra non solo mi riferisco al made in Italy in quanto vabbè noi siamo produttori di prodotti strepidosi ed eccezionali ma anche perché per esempio mi è capitato di vedere che molti degli oli esposti al supermercato ci sono quelli che presentano l'etichetta con la bandierina italiana e quelli che invece ti dicono olive come dire olio prodotto con olive della comunità europea allora anche qui mi viene quanto tempo ci potremmo mettere il sistema Europa il sistema Europa per sé a sviluppare e ad introdurre allora il problema è capire un attimino chi sarà il primo ad avere il coraggio di farlo perché in realtà ci sono molte aziende che sono molto interessate lo so perché sto trattando con alcune di queste stiamo un po' cercando di capire appunto come fare passare da alcuni progetti che ci sono già stati fatti alcuni progetti pilota a farli diventare poi diciamo uno standard che entri a pieno titolo nella filiera di queste aziende in particolare con alcune filiere del caffè dove stiamo addirittura andando a monitorare la piantagione a livello di immagini satellitari per avere dati al suolo di come sta andando la pianta fino poi alla torrefazione è un progetto è un progetto pilota che si è riuscito benissimo adesso da lì si tratta di andare avanti penso che la rossa differenza la farà il successo il primo caso di successo perché potrebbe essere uno di quei fattori per cui la quantità di mercato che va a spostare rispetto all'acquisto di quel prodotto può essere molto significativa quindi se una tecnologia di questo genere ti permette di erodere fette di mercato importanti tu o la adotti anche tu o rimani ad avere il tuo parco utenti eroso e quindi lì la cosa sarà probabilmente ci sarà una fase iniziale dove sono tutti titubanti poi il primo che si butta e incomincia ad avere risultati a valanga arrivano tutti io spero che ci voglia poco perché soprattutto per chi come dicevamo prima è un meccanismo reputazionale ma anche meritocratico soprattutto per chi merita di emergere soprattutto per chi ha sempre lavorato bene e sa di farlo e che magari è stato messo in difficoltà da economie di scala diverse o da altre ragioni potrebbe veramente vedersi riconosciuto tutto quello che merita pensiamo ad esempio anche per esempio nella moda o comunque nell'abbigliamento ci sono marchi italiani che fanno 100% made in Italy ma lo fanno veramente e ci sono altri che hanno comunque legalmente la possibilità di mettere il marchio made in Italy su una camicia perché è arrivata dall'estero senza bottoni e loro gli hanno cucito sopra i bottoni siccome per legge una camicia senza bottoni non è una camicia e è stata reso una camicia nel momento in cui gli hanno attaccato una decina di bottoni addosso allora quella camicia diventa made in Italy come dire sì è legale però bisognerebbe farsi qualche domanda sulla validità di questa sigla made in Italy data in questo modo ecco diciamo che in questa maniera chi può dire a parte magari la piantagione di cotone che in Italia non ne abbiamo tutto il resto è veramente fatto in Italia guarda mi hai fatto tornare in mente un periodo della mia vita in cui ho lavorato per un grosso distributore di occhiali da sole e da vista e insomma mi sono molto appassionato a tutto al prodotto in sé per sé e ho scoperto che molti dei nostri produttori non tutti alcuni tendono a fare appunto a produrre tutto quello che è la componente di aste e di frontale dell'occhiale nonché le lenti in particolar modo da sole in Cina dopodiché arrivano in Italia smontati e giustamente come tu dicevi una camicia senza bottone non è una camicia un occhiale senza aste non è un occhiale il solo fatto di diciamo avvitare le due viti delle aste sopra esatto sopra il frontale degli occhiali faceva sì permetteva all'impresa all'industria di poter apporre il marchio made in Italy piuttosto che handmade in Italy che è una cosa a mio avviso molto importante perché davvero assolutamente parliamo proprio quasi di un lavoro fatto a mano cioè un lavoro capito proprio le botteghe artigianali si possono permettere di o si dovrebbero poter permettere di apporre certi tipi di marchi piuttosto che colossi quindi anche qui l'utilizzo secondo me come tracciabilità come adesso siamo usciti fuori dal food dal settore del food ma l'utilizzo del blockchain per avere la tracciabilità totale è un elemento in più secondo me per per poter classificare poi un prodotto veramente qualitativo assolutamente cioè vorrebbe dire ci sono tutte queste come dire scappatoie che vengono adottate però di fatto fanno male le aziende fanno male le aziende oneste fanno male al made in Italy e fanno male all'Italia perché poi alla fine vuol dire che chi produce quelle aste in Cina sicuramente non sono lavoratori italiani vuol dire che sono tasse che non si pagano in Italia e vuol dire mettere poi alla fine freggiarsi di un marchio che uno in realtà non si merita quindi certo dal punto di vista legale non possiamo dire che uno sta barando sotto altri punti di vista come dire ci sono delle cose che un po' stridono mettiamolo così e poter ridare lustro al marchio made in Italy e dire no no questo qui è garantito dalla blockchain che è made in Italy dall'inizio lo posso dimostrare ecco a me piacerebbe molto rivedere quelle botteghe comunque quelle filiere produttive veramente di qualità e veramente fatte anche dagli imprenditori che ci mettono passione ci mettono tutta la loro vita a farli che loro possono dire è made in Italy perché l'hanno fatto davvero e gli altri si faranno pubblicità in altra maniera piccoli imprenditori e piccole botteghe che magari oggi hanno delle grandi barriere all'entrata quindi attraverso anche è un altro plus aggiungiamo anche questo cioè adottare ancora una volta questo sistema permetterebbe anche ai piccoli quelli che magari oggi non hanno molta voce in capitolo non hanno molte quote di mercato di poter approcciarsi appunto a un qualcosa a un mercato molto più ampio e risaltare in termini qualitativi assolutamente fai conto che anche il fatto che i costi siano bassi secondo me è molto importante noi abbiamo fatto con Quadran su una simulazione di quello che potrebbe essere il costo per ogni singolo elemento che viene avvenuto quindi diciamo il pacco di pasta piuttosto che il capo firmato quanto può andare a costare a fare aumentare di prezzo il fatto di aggiungere questo QR code e quindi avere tutta la procedura di inserimento delle informazioni che appunto poi comportano la certificazione tramite blockchain e il costo arrivava tra a spanne era una simulazione quindi potrebbe avaliare ma non penso di tanto dai due ai quattromillesimi di euro poi se lo fai con una produzione industriale di milioni di pezzi è un conto però è anche vero che magari in un soldo lo stilista o l'artigiano che fa cento pezzi in un anno quei cento pezzi sicuramente avranno dei valori e dei costi al mercato molto elevati per cui anche fosse che la certificazione con il QR code gli arriva a costare tre euro per dire penso che verrebbe completamente affogato e assorbito nel valore del prodotto bene allora ringraziamo Marco Crotta che è stato qui con noi per questa intervista sulla blockchain e la tracciabilità di tutto il food caro Marco grazie mille per essere stato con noi un caro saluto e alla prossima alla prossima fintech 24 blockchain mobile banking criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni pericoli e opportunità dell'economia del futuro grazie a tutti grazie a tutti